Sella di Teleton, Guardi Ambientali, Misericordia, vabbè ho dato ok, saluto. Vincenzo cammina con noi, tutti i ragazzi venite qua, non serve più che state lì. Daniele, Gianluca, prendete tutte le borse, portatele qui, al volo. I fotografi sul palco, mi dico channel sul palco. Forza, forza, tutti qua, tutti qua. Croce rossa. Ci siamo? Chi manca? Misericordia ci sta, dove vedo? Voglio prendermi una divisa di misericordia. Lo daremo, lo daremo, tranquillo. Misericordia dov'è? Stringetevi, 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 stringetevi vicino. Ok, signori, fate cheese. Gianluca, vieni? Banana! Fate cheese. Banana! Banana! Buon maggiorno! Primo, un secondo, un antipasto se ci sta. Benissimo! Ciao a tutti! Chi non ha avuto un attestato non va la mia! Salve, grazie a tutti!